Ciao ragazzi e benvenuti nuovamente in questo mio nuovissimo video, benvenuti sul canale, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche, in questo modo non perderete più nessuna delle novità che pubblicherò sul canale stesso. Di cosa andiamo a parlare oggi? Beh lo vedete qui alla mia destra, oggi voglio fare un tutorial definitivo per far vedere come si possono scambiare file tra un iPhone 11, in questo caso un Pro Max, da 64GB e il PC con sistema operativo Windows. Innanzitutto per file intendo tutti i tipi di file, quindi foto, video e documenti di vario tipo, per esempio PDF e file di Word, di Excel e di PowerPoint. Prima di entrare nel dettaglio della guida vi devo spiegare dei concetti fondamentali su come il sistema operativo dell'iPhone, ovvero iOS, gestisce lo scambio di file da iPhone, quindi da una memoria fisica ad iCloud. Quindi un hard disk di tipo virtuale di Apple che sta sul cloud. Quando andiamo a comprare un iPhone noi lo paghiamo soprattutto in base alla sua capacità di memorizzare i file all'interno dell'iPhone, quindi con un determinato hard disk fisico presente all'interno da 64GB, 128GB, 256GB e così a salire. Questa è una memoria fisica dentro l'iPhone. Apple però ci mette a disposizione un hard disk, chiamiamolo di tipo virtuale, presente su iCloud, uno spazio che si può acquistare in diversi tagli, 50GB, 200GB e così a salire. Di solito l'espansione su iCloud viene effettuata soprattutto quando si hanno dei tagli più bassi di hard disk presenti sull'iPhone, soprattutto quello da 64GB come per esempio il mio. Questo vale soprattutto per i file come le foto e i video. Infatti si acquista maggior spazio su iCloud per avere una maggior capacità di memorizzazione di questi tipi di file che vengono inviati nel cloud quando sull'iPhone si attiva la sincronizzazione verso iCloud. Quindi le foto ad alta risoluzione vengono mandate su iCloud, mentre invece sull'iPhone rimangono i file a bassa risoluzione. Questo viene fatto chiaramente per risparmiare dello spazio presente nell'hard disk dell'iPhone. La sincronizzazione di foto e video verso iCloud è un processo automatico che noi non andiamo a controllare se non dicendo all'iPhone di attivare questo tipo di sincronizzazione. Per gli altri tipi di documenti, quindi PDF, file di Word di Excel, l'iPhone può salvarli sia su memoria fisica dell'iPhone, sia su iCloud Drive, che è una parte di iCloud, quindi dello spazio che abbiamo originariamente acquistato, dove noi possiamo andare a stoccare tutti questi file per liberare la memoria sul iPhone. Attraverso che cosa andiamo a gestire questo controllo di file sia sull'iPhone sia sul cloud? Tramite l'app predefinita presente nell'iPhone che si chiama iFile o semplicemente File. Le foto e video vengono memorizzati in una parte dell'hard disk che si chiama rullino fotografico, che non è direttamente accessibile da iFile, per cui non è spesso semplice andare a salvare foto e video dall'hard disk dell'iPhone verso il PC. Oggi quindi andremo a prendere in esame una situazione tipo la mia, quindi un iPhone 11 con hard disk di soli 64 GB e un determinato spazio su iCloud esattamente da 200 GB. Vi farò vedere come si possono salvare le foto e video, ma anche i documenti, in maniera molto semplice per trasferirli all'interno del PC Windows. L'applicazione File presente dentro iOS è in grado sia di gestire l'hard disk dell'iPhone, del mio iPhone, sia iCloud Drive, cioè quello spazio cloud dedicato ai documenti che si possono spostare in maniera volontaria dall'utente, quindi foto, video e PDF e altri tipi di documenti. Vi ricordo per chiarezza che le foto salvate nel rullino fotografico, una volta che abbiamo attivato la sincronizzazione con iCloud, non finiscono in iCloud Drive, bensì vengono uploadate ad alta risonuzione in iCloud. Per cui il concetto è capire che si possono spostare da iCloud ad iCloud Drive, dove le possiamo gestire in maniera manuale. Intanto per farvi vedere, questa è l'applicazione File aperta direttamente sull'iPhone, vedete che di default l'iPhone con questa applicazione va a vedere lo spazio fisico, iPhone sarebbe l'hard disk e lo spazio di iCloud Drive, dove ci sono tutta una serie di documenti che noi possiamo gestire in maniera volontaria. Le foto e video invece vengono backupati su iCloud, dove non si possono spostare così tanto volontariamente. Ecco il perché di questa guida. Vi voglio far vedere come sincronizzare le foto presenti sull'iPhone, spostarle da iCloud all'iPhone e infine al PC. Che cosa ci serve per fare questo tutorial? Ovviamente l'iPhone non serve nessun cavo, ma il requisito fondamentale, oltre ovviamente ad avere il PC con il sistema operativo Windows, è che sia l'iPhone che il PC siano collegati sotto la stessa rete Wi-Fi, ovviamente per l'iPhone, cablata anche per il PC. La prima cosa che andiamo a fare è la creazione di una cartella, va bene anche sul desktop o ancora meglio forse nella cartella download, andiamo a creare una nuova cartella, quindi clicco col tasto destro sul desktop, nuovo, nuova cartella, la chiamiamo per esempio iPhone. Mi stavo dimenticando di una cosa che è importantissima, il PC deve avere un indirizzo IP di tipo statico. Per sapere come si assegna un IP di tipo statico al PC, scrivetemelo sotto nei commenti, se vi interessa ci farò un video dedicato. Comunque per sapere qual è l'IP basta aprire il prompt dei comandi, che è questa iconcina in basso, lo metto qua così almeno lo vedete, aspettate che gli do una dimensione un po' più consona, ecco, dove c'è il cursore si digita ipconfig e diamo l'invio. Qui in fondo appare l'IP del mio PC, 10.0.2.131, che io ovviamente sapevo già. Questo è un IP di tipo statico, ripeto, se volete sapere come si assegna un IP di tipo statico, fatemelo sapere. A questo punto dobbiamo spostarci sull'iPhone e andare a settare l'applicazione File. Una volta aperto nuovamente iFile o File, per fargli vedere la cartellina iPhone che abbiamo creato, si va sui tre puntini in alto a destra, c'è una voce precisa connetti al server, ci serve questa voce. Io, come vedete, ho già preimpostato il percorso di rete. Comunque, basta inserire l'IP fisso del PC che vedete qui a schermo, lo mettete qua dove c'è scritto server, date l'invio, vi chiederà la username e la password. Potete utilizzare le credenziali di accesso locali di Windows, quindi nome utente e password. Una volta che vi siete loggati, vi si creerà in automatico questo percorso, quindi basta, se ce l'avete già in un secondo momento, cliccare su questo. Vedete, utente registrato, nome, username e password. Clicco su Avanti. Ed ecco fatto. Praticamente, l'iPhone, tramite l'applicazione File, in questo modo vede la cartella iPhone che abbiamo precedentemente creato sul desktop. Vi voglio far vedere anche che, una volta creato il collegamento con il PC, quindi la condivisione della cartella iPhone, se si ritorna sul menu principale, il percorso di condivisione con il PC è questo. E abbiamo, come si può notare, la possibilità di disconnetterci quando abbiamo finito il processo. Adesso procediamo a salvare delle foto e dei documenti sul PC. Adesso, chiaramente, dovrete aprire il rullino fotografico in una sezione che volete. Io ho selezionato, per esempio, dei ritratti. Faccio clic su Seleziona. Seleziono i ritratti che mi interessano. Dopodiché, in basso a sinistra, si evidenzia il tasto Condivisione. Scorro il menu che appare e vado a dirgli di salvarli proprio su File, cioè l'applicazione che sto utilizzando per condividerli con il PC. Clicco Salva su File. Li scarica da iCloud, perché io ho attivato, chiaramente, la condivisione su iCloud. Ci vorrà un po' di tempo, a seconda del tipo di file che andrete a selezionare. Se selezionerete dei video, chiaramente vorrà un po' di più. Ecco, a questo punto, è il passaggio fondamentale. Io non dirò di salvarli sull'iPhone, ma lì gli dirò di andarli a salvare nel percorso di condivisione, cioè nella cartella iPhone che File sta vedendo. Quindi io seleziono l'IP del PC fisso, ovvio, e seleziono la cartellina iPhone. In questo modo. Infine, clicco su Salva. E vedrete, qua, stanno apparendo tutte le foto che io ho voluto salvare. Vedete come è stato molto semplice. Se voglio vedere le anteprime, clicco su tasto destro, icone, grandi, e appariranno proprio le foto che avevo sul mio rullino fotografico. In questo momento, queste foto sono sul PC, non sono più sull'iPhone. Questo per farvi capire che non servono programmi di terze parti per scaricare foto e video dall'iPhone verso il PC. Non serve nulla. Possiamo fare tutto con quello che abbiamo già. E direi anche in maniera molto efficiente. Chiaramente, il tempo di salvataggio dipende dal peso del file. Relativamente invece a un documento, tipicamente il caso più comune, è il PDF. Se io ho un PDF salvato in iCloud Drive o sull'iPhone, per esempio scelgo iCloud Drive, vado nella sezione dei PDF, io mi ero semplicemente fatto una cartella con i PDF, ne seleziono uno a caso, tre puntini, seleziona, sempre clic in fondo a sinistra sul tasto condivisione. Questa volta, a differenza delle foto, faccio clic su copia. Ok? Torno nuovamente con il file messo, diciamo così, negli appunti di iOS, clicco su percorso di condivisione, ritorno sulla mia cartellina file, in uno spazio vuoto, quindi in bianco, tengo la pressione prolungata con il dito indice e faccio clic su incolla. Ecco, come potete vedere, il file, PDF, è stato copiato nella cartellina iPhone che io avevo creato sul desktop. Chiaramente ci vuole un po' di tempo perché ha un certo numero di megabyte questo file. Se facciamo doppio clic sul PDF nel computer, quello che ho copiato dall'iPhone, vedete che il PDF è perfettamente apribile e consultabile. Quindi, la copia, anche del documento, è andata a buon fine. Tenete conto che questa stessa identica cosa la possiamo fare per un file di Word, Excel o PowerPoint. Bene ragazzi, la guida è terminata, il tutorial spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. In quel caso, condividetelo su tutti i social perché la copia dei file da iPhone a PC è fondamentale. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina delle notifiche e soprattutto guardate i miei video. La cosa mi farebbe molto, ma molto, piacere. Io vi saluto e ci vediamo ad una prossima occasione. Ciao!